Visti da lontano, i colpi di Galashnikov fanno un'impressione strana come delle buone nel vero, ma visti da vicino, visti da vicino i colpi di Galashnikov sono perfetti! 138, 147, 130, 131, 91, 118, 80, 63, 83, 142, 90, 97, 3.700 morti 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 la camorra, quando la vedi da lontano, sembra qualcosa che non ti riguarda ma se vi troverete ad esempio, come mi sono trovato io, a mezzanotte e mezza, alla stazione di Napoli e vedrete che il treno espresso vi porta le maestranze di questa terra a costruire l'inferno è lì, è lì che vi accorgerete che c'è qualcosa dell'inferno, dell'inferno e ci sarà un momento in cui il diventore camorriso vi sembrerà un vincente quelli che l'hanno capito perché loro c'è qualcosa dell'inferno, che è quello del potere da Napoli ma la loro strada è scendere sanno benissimo di crepare tutti ci sanno benissimo di fare 20 anni di canetti pretendo di non implorare ciò che vi fa aiutare 20 guardate sanno e sapete conoscere come funziona il meccanismo degli appalti conoscere come un politico viene eletto, capire è l'unico modo che avete per difendervi è l'unico modo che avete per difendervi grazie